Cari amici, eccoci qui che questo ambiente è diverso dalla solita scrivania dello studio e così via, perché dobbiamo parlare sempre di artro-neumatologia, sempre di articolazioni, però parliamo di un'articolazione che viene sottoposta al stress durante gli sport. Tutti i sport che tra l'altro si praticano all'aria aperta. Allora ho scelto questo ambiente per parlarvi di questa articolazione. Abbiamo parlato della mano, abbiamo parlato del piede, del ginocchio, dell'anca, Oggi saliamo e parliamo del gomito. Il gomito è un'articolazione molto particolare, molto complessa. È fatta di tre ossa, c'è il radio, c'è l'ulna, c'è l'incontro con l'omero ed è un'articolazione veramente molto, sono quasi tre sacche articolari che si incontrano. Quindi è un'articolazione che è fatta per non essere usata tantissimo. E quindi quando si usa molto facendo certi lavori, tipo per esempio l'elettricista che continua ad abitare, tipo il musicista che anche quello esercita magari chi suona il violino, chi suona l'arpe, eccetera eccetera eccetera, esercita molto questi muscoli che vanno dal polso all'omero, indubbiamente si va a sollecitare questa articolazione del gomito. Ecco, quindi il problema è questo, normalmente le persone, diremmo correnti, che vanno una vita normale, abbastanza sedentari e così, non hanno questo problema. Però oggi come oggi abbiamo una gran massa di persone che giocano a tennis, che giocano a golf e naturalmente il problema infiammatorio colpisce queste persone a livello di questa articolazione, tanto più, e se è sempre un fattore di rischio, se queste persone sono un pochino avanti con gli anni. Quindi il golfista, il tenista di 20 anni non ha alcun problema, ma quando il tenista e il golfista incominciano ad avere 30, 40, 50 anni, già c'è una tendenza degenerativa delle strutture articolari e quindi si possono produrre queste alterazioni. Le patologie del gomito sono sostanzialmente tre. C'è l'epicondilite, l'epicondilite laterale, che è nota di più come gomito del tenista, che è un'infiammazione legata al fatto che il tenista fa questo movimento che sollecita moltissimo la struttura dell'articolazione. Naturalmente quando il movimento è fatto in maniera scorretta e se è fatto per ore in maniera scorretta, se non è fatto con questa costosissima racchetta di mio figlio Francesco, che è una racchetta bilanciata, esatta, eccetera, eccetera, se si usa uno strumento sbagliato si stressa l'articolazione e si pensava un tempo che fosse un problema infiammatorio. In realtà, come dicevo, non è un problema tanto infiammatorio, è un problema infiammatorio che si sovrappone a un problema degenerativo, ovvero questo gomito del tenista, queste epicondilite, colpisce sì il tenista, però il tenista che ha comunque dei problemi sotto, come sempre diremmo ci deve essere in qualsiasi malattia, un elemento permissivo, quindi l'elemento permissivo e la tendenza degenerativa delle strutture, poi l'esercizio continuo di questo movimento determina l'infiammazione e così via. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna dal punto di vista terapeutico usare sì da una parte sostanze come il traumel, da fare come pomata, come compresse o come iniezioni, ma anche usare sostanze come il solanum compositum, come varie sostanze che attivano la microcircolazione, perché è un problema di comunque invecchiamento delle strutture, quindi questo è molto importante, quindi bisogna fare qualcosa anche per l'invecchiamento strutturale, quindi antinfiammatori e così via. L'altra situazione che si verifica, ci sono queste due strutture muscolari, le strutture di flessione e di estensione, quindi quando ci sono i movimenti di estensione che si fanno soprattutto nel gioco del golf, allora ci sarà questa infiammazione della parte mediale del gomito, quindi non si dice più epicondilite, si parla di trocanterite perché si tratta di un'altra struttura dell'articolazione. La situazione, la base infiammatoria e degenerativa è la stessa sostanzialmente e quindi gli stessi sono i rimedi, quindi naturalmente in fase acuta è importante l'iniezione, secondo me, iniezione che potrà essere fatta con appunto zel, c'è un farmaco specifico per esempio omotossicologico che si chiama ferrum homacord e traumelle e così via. E poi ci sono tutta una serie di piante, piante che devono essere piante a contenuto di acido salicidico, quindi può essere la corteccia di salice, può essere una pianta molto molto interessante che l'aspira e ulmaria, tutte piante con effetto anti-infiammatorio e deve essere supportate da piante e sostanze antidegenerative che quindi proteggano in generale le strutture. Terza ed ultima situazione frequente, no a parte ci sono altre situazioni, poi naturalmente l'artrite reumatoide, la gotta, come colpiscono diremo il polso, possono colpire certamente anche il gomito, però un'altra situazione frequente del gomito è la borsite. La borsite cos'è? Ogni articolazione, almeno molte articolazioni sono racchiuse in una borsa, in una borsa nella quale c'è il liquido sinoviale che permette la lubrificazione e il movimento non doloroso dell'articolazione. Quando questa articolazione si infiamma viene prodotto una maggior quantità di liquido sinoviale, quindi vedremo questa borsite, questo rigonfiamento del gomito che sarà molto evidente, che da gonfiore, molto spesso darà anche rossore, molto spesso dà anche dolore. Il più delle volte, le volte che io sono incappato in queste problematiche, si deve cercare di svuotare il liquido, si svuota una volta o due in genere è sufficiente e di immettere subito dopo sostanze antinfiammatorie. Ecco, io non metto il cortisone come fanno molti ortopedici, ma io metto per esempio appunto il traumel. E la borsite è una situazione appunto che può essere dovuta anche alla puntura di un insetto, una ferita, un fatto generale che infiamma l'articolazione, bisogna stare molto attenti perché può esserci una borsite anche su base purulenta, può crearsi del pus che può diventare molto pericoloso, come tutte le raccolte purulenti, per tutto l'organismo.